salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco oggi ci troviamo ancora una volta su genshin impact perché dobbiamo parlare di un altro personaggio che a mio avviso è stato abbastanza sottovalutato da un certo punto di vista e anche molto sfruttato secondo ovviamente altri punti di vista iniziamo innanzitutto a metterlo iniziamo ecco iniziamo ad inserire innanzitutto il personaggio di cui dobbiamo parlare all'interno del party quindi leviamo un attimo il mio caro Bennett e inseriamo la nostra Mona esatto perché oggi voglio parlare di Mona Mona è un personaggio che inizialmente era stato introdotto all'interno del gioco ed era stato reso quasi partecipe come se fosse un dps quando in realtà poi si è scoperto essere molto più a suo agio per quanto riguardava il ruolo del support ma un support abbastanza particolare perché data la sua grossa e ripeto grossa capacità di poter sfruttare al meglio l'energy recharge viene in un qualche modo giocato come se potesse essere un supporto dps a tutti gli effetti perché non solo riesce a fare comunque una discreta quantità di danni durante il periodo di combattimento ma un'altra delle cose che la caratterizza è il fatto di poter caricare la sua limit burst in una maniera estremamente esagerata infatti se andiamo a vedere un attimo la composizione del personaggio come potrete notare ovviamente ci sono diverse caratteristiche che risaltano subito all'occhio ora in questo caso la mia è un pochino come dire indietro per quanto riguarda la build perché ho giocato letteralmente di meno a genshin mi sono dedicato comunque ad altre cose e di conseguenza non ho potuto massimizzare o comunque rendere in un qualche modo presentabile al cento per cento la mia mona ma vi posso assicurare e vi posso garantire che il personaggio buildato o comunque costruito in questa maniera potrà darvi veramente tante soddisfazioni se andiamo a vedere nei dettagli giustamente come potrete notare ovviamente abbiamo delle piccole diciamo dei piccoli aumenti per quanto riguarda l'attacco e gli hp in confronto a quelli che vi ho fatto vedere di due personaggi che comunque essendo la punta di diamante del mio profilo sono decisamente superiori ovvero razor e venti che se non avete visto vi invito a vedere perché sono veramente delle build molto molto potenti e molto buone che vi consentiranno di poter giocare liberamente senza troppi problemi inoltre come potete vedere anche la mia elemental mastery è leggermente bassa anche se l'elemental mastery è un qualcosa che sicuramente per mona fa molto comodo mona essendo un personaggio di tipo acqua riesce ad avere diverse combinazioni interessanti come per esempio acqua e ghiaccio acqua e fulmine anche acqua e fuoco in realtà potrebbero essere interessante con l'effetto di vaporize però soprattutto con l'effetto vento che riesce in un qualche modo a coinvolgere tutti gli elementi devo ammettere che nel mio team più nello specifico è assolutamente perfetta una cosa importantissima da tenere a mente e soprattutto da cercare di massimizzare e incrementare il più possibile è l'energy recharge l'energy recharge se andiamo a leggere è praticamente l'incremento per quanto riguarda l'ammontare delle particelle di energia che ci consentono successivamente di accumulare subito la nostra elemental burst diciamo che l'energy recharge è importante non solo per permettere alla nostra mona di avere una burst praticamente continua letteralmente una sorta di spam per quanto riguarda la burst ma vedremo anche tramite i suoi talenti che l'energy recharge avrà un ruolo molto molto importante per quanto riguarda le armi io sto utilizzando il favonius codex che praticamente aumenta giustamente l'energy recharge come substats quindi è assolutamente fenomenale dal punto di vista dell'arma dato che appunto come ho detto prima per mona bisogna in un qualche modo aumentare il più possibile l'energy recharge e poi una base di attacco che comunque di 302 che schifo assolutamente non mi fa è un'arma 4 stelle quindi può essere ottenuta abbastanza facilmente durante le classiche pool di routine che si effettuano per incrementare il pd o semplicemente per andare a cercare un personaggio quindi diciamo che fondamentalmente è l'arma che teoricamente consiglierei esiste anche un'altra arma che ho letto in giro che viene consigliata che si chiama il wine non mi ricordo esattamente il nome però è quell'arma vi dico la descrizione così magari lo sapete ce l'avete è quell'arma che praticamente per ogni personaggio nel team che viene da monstad si ha la possibilità di poter aumentare attacco e velocità di azione quindi sono due armi che comunque riescono in un qualche modo a dare una mano a mona però io personalmente consiglierei molto di più il favonius codex sia perché alla substats fissa di energy recharge che è molto importante per quanto riguarda mona ma soprattutto perché il suo effetto combinato con appunto quello che riusciamo a fare con mona penso essere la combinazione migliore infatti gli attacchi critici hanno l'80% di possibilità di guadagnare una piccola sfera elementale di energia che rigenera 6 punti di energia per il personaggio quindi diciamo che i nostri colpi critici ci danno la possibilità di poter ottenere sfere aggiuntive che ci consentono di avere ovviamente sempre più energia quindi va ad incastrarsi benissimo con il funzionamento di energy recharge che per l'appunto stavamo sottolineando poco fa per quanto riguarda gli artefatti invece purtroppo i miei ancora sono a livello basso perché li ho ottenuti di recente però il set del noblesse oblige penso sia molto molto interessante come vi ho detto prima la nostra mona sarà una sorta di spammer per quanto riguarda la sua elemental burst quindi avere appunto i due pezzi del set del noblesse oblige che ci consente di avere un elemental burst damage del 20 per cento penso siano molto molto utili e poi ovviamente come set aggiuntivo ho messo uno scolar ma va benissimo anche un exile dove praticamente i due pezzi ci consentono di aumentare l'energy recharge del 20 per cento e quindi anche in questa occasione abbiamo un incremento totale per quanto riguarda il nostro energy recharge le costellazioni devo ammettere sono stato abbastanza fortunato dato che mona in totale mi è uscita tre volte mentre stavo cercando 20 e un'altra volta mi è uscita praticamente a random dal banner mentre stavo pullando per tentare di trovare di look mi è uscita un'altra mona letteralmente a random quindi abbiamo la prima costellazione almeno nel mio caso dove praticamente tutti gli effetti che vengono correlati con l'effetto idro hanno praticamente un enchantment che dura per 8 secondi e quindi abbiamo un danno elettrico aumentato del 15 per cento danno vaporize aumentato del 15 per cento hydro swirl che viene aumentato del 15 per cento e la durata dei nemici congelati aumenta del 15 per cento quindi diciamo che fondamentalmente già una copia sola di mona ci permetterebbe di avere un incremento totale per quanto riguarda i suoi potenziamenti e per quanto riguarda i suoi danni che è una cosa assolutamente utile mentre io invece avendo anche una seconda copia ho sbloccato la possibilità che nel mentre effetto degli attacchi normali c'è un 20 per cento che il mio attacco normale venga seguito automaticamente da un attacco caricato e questo effetto può essere ripetuto ogni 5 secondi anche questo non è male dato che l'attacco caricato di mona è un attacco che infligge danni a oe e soprattutto infligge lo status wet a più persone qualora si trovassero tutte vicine l'una con le altre devo ammettere che è un effetto abbastanza interessante quindi il fatto di aver ottenuto comunque due costellazioni sinceramente mi permettono di utilizzare mona e di renderla ancora più offensiva ma andiamo ai talenti i talenti sono per l'appunto la parte forte che vi ho detto precedentemente dove viene collegato l'energy recharge di cui abbiamo parlato finora dato che comunque molti potrebbero chiedersi sì sfrutti una una build concentrata sull'energy recharge proprio perché così come hai detto tu ti permette di accumulare più energia e quindi spammare automaticamente la burst non solo c'è un altro effetto aggiuntivo che appunto lo andiamo a leggere nei talenti ovviamente abbiamo il primo talento che riguarda l'attacco normale quindi abbiamo la possibilità di aumentare il danno effettuato singolarmente di una percentuale abbastanza discreta certo devo ammettere che le percentuali dal 40 al 70 per cento per quanto riguarda soltanto gli attacchi normali sono un po bassine magari delle percentuali un po più alte sarebbero state gradite ma va bene così lo stesso il charged attack invece addirittura 187 per cento che ti fa pensare quasi di utilizzare mona solo ed esclusivamente con charged attack rispetto comunque a una serie di attacchi più veloci che però possono essere comunque deboli dal punto di vista di danno mentre invece grazie all'effetto che ho sbloccato con la costellazione non mi devo preoccupare più di tanto di effettuare charge attack perché come detto prima li effettuerà lei stessa automaticamente ogni 5 secondi quindi sono abbastanza coperto da questo punto di vista e posso giocare mona in una maniera un po più un po più scialla poi la cosa importante abbiamo la mirror reflection of doom che è un ottimo talento a parte il fatto che è la sua skill elementale dove praticamente creiamo una sorta di fantasma d'acqua che attira i nemici su se stesso e tutti i nemici che ha attorno questo fantasma continua ad effettuare danno di tipo hydro continuamente ed infliggere ovviamente lo status wet quindi devo dire che non è che abbastanza male c'è differenza ovviamente tra il rilascio per quanto riguarda questo quest'elemental skill per il tasto premuto o per quanto riguarda soltanto il tap e il rilascio dell'ombra in quanto se tappiamo soltanto un attimo con il tasto in questo caso r2 lasciamo praticamente la nostra il nostro phantom addosso ai nemici e quindi di conseguenza abbiamo la possibilità poi di attaccarli successivamente mentre se teniamo il tasto premuto di questo fantasma abbiamo la possibilità non solo di piazzarlo nella posizione dove eravamo noi ma di addirittura fare un passo indietro e quindi lasciare una sorta di copertura alle nostre spalle che devo ammettere essere una strategia abbastanza utile quando si viene circondati quando si viene circondati da diversi da diversi nemici quindi si vuole creare una sorta di scappatoia una sorta di via di fuga poi abbiamo l'illusory torrent che ovviamente è soltanto la nostra animazione per quanto riguarda la corsa in quanto mona non ha un'animazione ben definita per quanto riguarda la corsa ma diventa una sorta di ruscello continuo che si sposta all'interno della mappa cosa che ovviamente vi farò vedere e poi invece l'attacco burst molto molto interessante dove abbiamo l'illusory bubble che permette a mona di infliggere lo status di paralisi letteralmente ai nostri avversari mentre dona a loro ovviamente lo status di wet e successivamente coloro che vengono colpiti dall'effetto di paralisi di questo di questo attacco subiscono un danno aumentato danno aumentato che ovviamente come potete vedere abbiamo la durata di 8 secondi l'esplosione del danno del 509 per cento un danno bonus che viene effettuato successivamente grazie ad altre caratteristiche del 46% e l'omen duration che sarebbe per l'appunto lo status che infligge lei tramite questo attacco burst che dura di 4 secondi cooldown di 15 secondi e costo di energia 60 per quanto riguarda l'effetto di omen come potete leggerlo lì sotto dalla descrizione abbiamo during its duration increased damage taken by enemies quindi coloro che avranno questo debuff chiamiamolo così di omen addosso riceveranno più danno e quindi sarà molto più semplice buttarli giù quindi non solo abbiamo la possibilità di infliggere un'esplosione del danno bubble del 509 per cento quindi immaginate il moltiplicatore quanto è realmente alto ma abbiamo anche l'omen la durata dell'omen di 4 secondi quindi 4 secondi di questo debuff che ci consente di essere molto molto offensivi poi vabbè questo è un talento passivo che si sblocca che non interessa fondamentalmente più di tanto ma quello che ci interessa di più è questo waterborne destiny sbloccabile all'ascensione numero 4 ci consente di incrementare il danno di mona hydro quindi hydro damage bonus grazie ad una percentuale equivalente al 20 per cento del suo energy recharge rate quindi il 20 per cento di energy di energy recharge viene convertito in danno bonus che noi effettuiamo i nostri nemici quindi non solo avremo la possibilità di poter aumentare la ricarica della nostra elemental burst e quindi spammarla in maniera quasi compulsiva ma addirittura avremo la possibilità di poter effettuare dei danni in più grazie a questo energy recharge quindi diciamo che lo sfruttamento dell'energy recharge per quanto riguarda mona è veramente veramente importante andiamo a fare la daily visto che abbiamo praticamente una daily qua a disposizione vicino giusto per farvi vedere anche come utilizzare al meglio mona e vedere un attimo anche i danni che fa nonostante la mia sia comunque abbastanza deboluccia proprio perché non ho ancora uppato gli artefatti e sono diciamo leggermente più leggermente più debole rispetto a quello che dovrei essere realmente allora qui c'è la bambina quindi questa non mi sa che non combattiamo perché poi ogni volta mi dice di di parlare con con il nemico e dare la maschera praticamente però magari riusciamo ok vai da lui e digli ciao va bene vediamo se adesso mi attaccherà perché la maggior parte delle volte mi attacca va bene ok ciao perfetto noi invece li attacchiamo lo stesso allora come potete vedere vi faccio vedere adesso vedete il tap dove praticamente diamo vabbè qui ora è esploso dove diamo praticamente il il fantasma addosso guardate le energie recharge nel frattempo anche i danni che non sono affatto male 200 300 per quanto riguarda comunque ogni singolo attacco non sono non sono affatto male per per un personaggio come lei che teoricamente viene utilizzato come come supporto non sono affatto male vedete anche che abbiamo la possibilità di effettuare gli attacchi caricati che lei è una addirittura 800 questo invece è il tasto premuto vedete sono andato praticamente all'indietro e quindi diciamo che è anche una buona situazione di fuga una buona strategia per quanto riguarda la fuga poi come potete vedere mettendo la mettendo l'illusione abbiamo la possibilità di distrarre i nostri nemici e poi effettuare danni con ovviamente altri quindi rimettiamo vedete il fantasma ed è molto molto facile puoi prendere alle spalle anche gli altri avversari adesso invece andiamo nella parte divertente perché vi farò vedere anche la burst di vi farò vedere anche la burst di mona in azione dato che ce l'abbiamo già carica come potete vedere il fatto di avere energy recharge aumentato nei confronti del nostro personaggio ci dà comunque un grandissimo vantaggio per quanto riguarda la ricarica della nostra burst ora non vorrei che qui ci siano no qui ci sono gli altri sì esatto gli altri mentecatti oddio mi sono distrutto allora curiamoci ecco qua e adesso vi faccio vedere qual è uno dei poteri maggiori di mona ovvero il fatto di avere la possibilità ecco mettiamo qui praticamente la nostra trappola facciamo l'elemental burst e guardate che cosa succede nel momento in cui lo uniamo con un altro elemento boom avete visto i numeri da parte che il mio 20 è praticamente una bestia di satana adesso che addirittura l'ho portato all'80 è veramente fortissimo ci sono veramente poche cose che non sa fare 20 ormai è un dps a tutti gli effetti vorrei portare anche mona all'80 per per riuscire ad avere questa sua potenza di fuoco così come quella che tu siete 20 e vabbè però che continui a rushare così non mi aiuti assolutamente proprio non mi aiuti proprio allora aspetta mi metto un'altra volta e che palle però che sei ora eh ora mi ha rotto un pochettino le palle è inutile che fai finito di girarti dall'altro lato dopo che è un'ora e mezza che mi fai sprecare gli attacchi non c'è il ecco infatti enemy force is coming adesso vi faccio vedere anche vi faccio vedere anche la potenza singolare del suo elemento vedete adesso sono tutti quanti bloccati nel momento in cui li attacchiamo vedete 3240 3240 ancora una volta per quanto riguarda il danno che andiamo ad effettuare singolarmente e questi danni comunque potranno poi essere successivamente calcolati tramite l'unione con altri effetti congiunti quindi come avete visto prima con 20 ad esempio che ha fatto comunque un'ottima come dire un'ottima combinazione di danno su heal permettendo di effettuare più di 5000 punti di danno al singolo target e poi fare altro tipo di danno per i nostri personaggi devo ammettere per un personaggio come Mona che tendenzialmente nel team è uno di quei personaggi che come dico io entra e esci quindi la facciamo entrare effettuiamo la sua elemental skill effettuiamo la burst la facciamo uscire e ricarichiamo successivamente la sua energia per rifare la stessa cosa quindi farla rientrare energy recharge con il elemental skill e poi successivamente lo spam nuovamente della burst quindi è questo il metodo o comunque questo è il modo con il quale io gioco fondamentalmente Mona non consiglierei in realtà di farla stare in campo per tanto tempo perché a differenza di altri personaggi i suoi tipi di attacchi non sono molto gestibili in quanto lei effettua degli attacchi rapidi con il libro ma non riesce a schivare così come riescono a schivare altri personaggi vuoi per l'animazione visto che lei comunque non ha lo scatto come qualsiasi altro personaggio ma praticamente possiede questa specie di vedete questa specie di entra e esci che rende abbastanza difficile in realtà la schivata di alcuni attacchi soprattutto per quanto riguarda l'animazione perché a volte prende un cooldown strano in forma sincera non so se è perché gioco da playstation però delle volte questa animazione mi prende un cooldown molto particolare che mi impedisce praticamente il movimento e mi fa subire danni inutili a parte il fatto che guardate la distanza che riesco a ricoprire mi sembra anche di meno mi sembra anche inferiore rispetto alla distanza che riesco a prendere solitamente con gli altri personaggi quindi non lo so magari è una cosa mia personale non so magari non lo so ripeto può essere una cosa mia allora qui dobbiamo sconfiggere addirittura l'eye of the storm vedete i danni comunque single ecco vedete non riesco vedete non si riesce praticamente a schivare in maniera ottimale come si riesce a schivare con altri personaggi quindi per questo io non consiglio tantissimo come dire vedete non consiglio proprio la permanenza di Mona all'interno del film proprio perché comunque è abbastanza macchinosa da dover gestire all'interno di un combattimento quindi non lo so forse sarà una cosa mia personale però penso che sia così vedete madonna guardate quanti danni è riuscito a fare con la sua elemental burst poi basta che la tenete in campo un altro cuoco poi in questo caso facciamo così ecco vabbè ho sbagliato io ho lettera avete sbagliato io però ogni volta che attacca guardate come riusciamo ad ottenere comunque diverse sfere di energia per aumentare come stavo dicendo prima la sua elemental burst tra l'altro i critici ci consentono di avere anche delle sfere extra quindi direi assolutamente tanta roba e i danni ripeto non sono male poi ovviamente sta a voi decidere qual è il vostro target il vostro output di danno che volete raggiungere però io direi che personalmente parlando per un supporto non è affatto male detto questo io spero di aver detto tutto spero che al solito il video vi sia stato utile facciamo un piccolo recap finale giusto per un attimo restare insieme devo portare sugli artefatti che purtroppo come potete vedere alcuni sono addirittura ancora al zero proprio perché li ho ottenuti soltanto recentemente ovviamente caratteristiche da cercare o comunque caratteristiche da aumentare per quanto riguarda Mona consiglio energy recharge hydro bonus e crit rate se utilizzate questa stessa se utilizzate questa stessa mia build l'energy recharge in primis perché comunque consente di effettuare danni hydro bonus del 20% dell'energy recharge totale quindi più alta è meglio è e poi successivamente cercare anche di ottimizzare l'energy scusatemi il crit rate se si riesce giusto per sfruttare magari un po' di più il favonius code non interessa tanto il fatto di effettuare danni critici quanto effettuare colpi critici effettuare colpi critici ci consente di ottenere più sfere di energia mentre invece il danno critico sinceramente non ci interessa per questo tipo di build ci sono altri tipi di build che sfruttano il danno critico facendo praticamente le nuke come vengono chiamate in giro però personalmente parlando per un personaggio ottimale e soprattutto low cost come lo definisco io preferisco questo tipo di settaggio quindi energy recharge hydro bonus e crit rate a mio avviso sono le substats che bisognerebbe cercare per questa tipologia di mona fatemi sapere cosa ne pensate mona io l'ho rivalutata molto come personaggio inizialmente non la utilizzavo molto adesso iniziando a conoscere un pochino di queste sue meccaniche la sto rivalutando tantissimo e mi sta piacendo anche molto da utilizzare vorrei tantissimo un personaggio ghiaccio decente a parte kaya che non mi piace come gameplay mi piacerebbe avere un personaggio di tipo ghiaccio kiki sarebbe probabilmente eccezionale dato che cura anche o un chongyun che mi permette di effettuare danni essendo un dps comunque anche lui a due mani mi piacerebbe averlo in combinazione anche con razor per gli effetti di ghiaccio e fulmine che abbassano la difesa fisica e fare un team comunque con razor chongyun venti o barra mona e barbara per le cure sarebbe penso molto 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 figo penso dal punto di vista comunque anche di combattimenti comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate di mona fatemi sapere se vi piace questa sua build questa sua caratteristica e poi noi come sempre ci vedremo in un prossimo video bye bye